Conviene investire sui BTP Valore? È la domanda che probabilmente ti ha portato qui a guardare questo video ed è quello che cercheremo di capire nei prossimi minuti che passeremo insieme. Bentornato sul canale YouTube di Affari Miei, io sono Davide Marciano e sono il cofondatore di Affari Miei. Affari Miei è una società di educazione e consulenza finanziaria indipendente e a partire dal 2014 con la nostra attività guidiamo gli investitori che vogliono prendere il controllo del proprio patrimonio a farlo in maniera efficiente. Se questa è la prima volta che stai guardando un nostro contenuto ti invito a iscriverti al canale cliccando il tasto che trovi qui di sotto e attivando anche le notifiche così da ricevere appunto una notifica da YouTube quando pubblicheremo nuovi contenuti. Se già ci conosci ti invito a schiacciare un bel pollice verso l'alto così da diffondere questo contenuto attraverso il sacro algoritmo di YouTube. Last but not least se vuoi cominciare a muovere i primi passi da investitore autonomo e vuoi capirci qualcosa in più qui in descrizione trovi un report con 3TF scelti dal Centro Studi e Ricerche di Affari Miei che ti guiderà appunto nel muovere i tuoi primi passi nell'approcciarti alla gestione individuale e autonoma del tuo patrimonio. In questo video cercheremo appunto di rispondere alla classica domanda che ci arriva ogni volta che c'è un'emissione di BTP nello specifico soprattutto i BTP che sono destinati ai risparmiatori individuali quindi di solito BTP Italia o BTP Valore come in questo caso. Vedremo in generale come funziona questo nuovo BTP quindi quali sono le caratteristiche che sono state annunciate dal Tesoro e vedremo in maniera molto semplice se, come e quando conviene investire. Cominciamo subito dopo la sigla. Una premessa molto importante l'emissione di BTP Valore è prevista dal 5 al 9 giugno con chiusura alle 13 io sto registrando questo video un po' prima ovviamente per anticiparmi il lavoro e soprattutto sto registrando questo video prima della data che è quella del primo giugno in cui saranno annunciati tutti i dettagli circa i rendimenti quindi se guarderai questo video quando questi dettagli saranno già noti ti invito a cliccare in descrizione il link che apporremo grazie al quale potrai accedere all'articolo di affari miei che ovviamente sarà aggiornato in tempo reale e ti darà tutti i dettagli che nel momento in cui sto registrando non sono ancora noti. Però vediamo quello che sappiamo che è già tanto e può essere già utile per farci un'idea. La data dell'emissione l'abbiamo vista partiamo dalla durata. Questo BTP nasce per durare 4 anni e a differenza di altri titoli di Stato che generalmente prevedono una cedola fissa nel tempo in questo caso sappiamo già che questo BTP avrà dei rendimenti crescenti nel tempo quindi non ci sarà sempre lo stesso tasso di interesse che ci verrà riconosciuto ma man mano che si va avanti il tasso sarà crescente il rendimento sarà crescente. Sappiamo già che ci sarà un premio fedeltà per chi porterà il titolo fino alla scadenza dello 0,5% che sembra essere abbastanza generoso rispetto a quello che si è visto in altre occasioni e appunto come dicevo poco fa sappiamo che poi i dettagli circa i tassi saranno annunciati il primo giugno quindi lo ripeto se guarderai questo video dopo il primo giugno clicca il link che trovi in descrizione perché c'è l'articolo che sarà tempestivamente aggiornato. Il taglio minimo per investire è di 1000€ quindi si acquista a partire da 1000€ e per quanto riguarda la tassazione come sempre entreremo nel regime agevolato quindi l'imposizione sarà del 12,5% e come specificato dal tesoro il capitale è garantito a scadenza nel senso che se portiamo il titolo fino al quarto anno riceviamo i soldi che abbiamo investito unitamente alle cedole che ci verranno appunto staccate nel corso del tempo ovviamente garanzia a scadenza fino a prova contraria nel senso che come abbiamo detto anche in altri video qui sui affari miei gli stati possono fallire ma in questo caso trattandosi di una scadenza abbastanza breve si tratta comunque di un'ipotesi straordinaria che finora non si è mai verificata. Queste sono le informazioni più importanti che dobbiamo conoscere ma sono sicuro che se stai guardando questo video ti stai chiedendo se conviene investire oppure no è quello che con ogni probabilità vuoi sapere. Ovviamente è molto difficile esprimersi perché fin quando non conosceremo i rendimenti effettivi delle cedole stiamo un po' parlando di quello che ci possiamo aspettare non abbiamo una certezza sarebbe stupido da parte mia dirti conviene o non conviene senza conoscere questi dettagli è chiaro che dal mio punto di vista mi aspetto che il rendimento sarà simile a quello degli altri titoli di Stato italiani su una scadenza simile quindi mi aspetto magari qualcosa in più per incentivare magari gli investitori retail ma più o meno queste saranno le condizioni quindi se vuoi farti un'idea dai uno sguardo ai rendimenti dei titoli di Stato con una scadenza a 4 anni che si trovano in questo momento anche sul mercato secondario e più o meno ti faccio vedere senza timore di essere smentito più di tanto che quando annunceranno i rendimenti di questo BTP saremo su quei rendimenti lì un po' di più o un po' di meno ma mi aspetto un po' di più io però la sostanza è questa quello che però è importante dire in questo video è che secondo me ti può essere utile non solo per questa emissione ma in generale tutte le volte che valuterai dei BTP o che valuterai qualsiasi tipologia di investimento è stabilire quali sono i criteri con cui valutare la convenienza nello specifico abbiamo due livelli di convenienza abbiamo una convenienza relativa e una convenienza assoluta cosa vogliono dire queste parole difficili? niente di complicato non ti preoccupare la convenienza relativa è data dal confronto tra il nostro BTP valore e altri titoli di Stato simili con la medesima scadenza quindi nella maggior parte dei casi altri BTP che si possono acquistare magari sul mercato secondario o altri titoli di Stato di paesi esteri che sono considerati dalle agenzie di rating simili all'Italia in quanto a rischi e con rendimenti insomma similari in questo caso chiaramente la risposta la conosceremo dopo il primo di giugno perché sapremo a quanto ammonteranno le cedole potremo calcolare al termine dei 4 anni a quanto corrisponderà il rendimento totale del nostro titolo di Stato e da lì potremmo dire è più conveniente o è meno conveniente rispetto a ciò che è simile rispetto a ciò che è immediatamente comparabile la convenienza assoluta invece è un concetto generale che riguarda il rapporto tra questo investimento che noi vogliamo pur rinessere eventualmente e gli altri investimenti che abbiamo già fatto in generale il nostro portafoglio ogni volta che un cliente ci chiede cosa pensi di questo strumento sia esso un BTP sia esso un azione un ETF un fondo noi rispondiamo sempre con una domanda che è poi la domanda che apre le porte della convenienza assoluta cosa aggiunge questo strumento al tuo portafoglio cosa ha in più rispetto a quello che è già e quelle risposte ovviamente possono differire a seconda di chi è il soggetto che si sta interrogando circa quest'operazione è chiaro che chi ha fatto la spesa negli ultimi mesi e si è riempito di BTP o in generale ha sempre investito in titoli di Stato italiani magari ha l'80% del proprio patrimonio allocato sui BTP probabilmente avrà meno convenienza dall'investire su questo titolo anzi a queste persone direi guarda che probabilmente stai investendo male apri gli occhi prima che sia troppo tardi perché stai concentrando troppo il tuo rischio su un solo emittente che in questo caso è lo Stato italiano diverso è per chi magari ha un portafoglio più diversificato magari ha delle obbligazioni in scadenza magari vuole incrementare la sua componente obbligazionaria quindi senza sapere leggere e scrivere senza avere adesso le informazioni sui tassi in quel caso direi perché no probabilmente potrebbe anche starci in un portafoglio dato che mi aspetto comunque dei rendimenti in linea con il mercato il consiglio generale che mi sento di dare in questa sede è che se non siamo in grado di rispondere a questa domanda cioè se non sappiamo a che pro compriamo questo BTP ma siamo attratti solamente magari dalla cedola o siamo attratti solo dalla pubblicità che vedremo sui media forse, dico forse, il problema non è scegliere il BTP ma è in generale capire come possiamo gestire meglio i nostri soldi onde evitare appunto di fare come fanno tante persone che comprano un po' strumenti finanziari a caso salvo poi trovarsi a un certo punto con il portafoglio sbilanciato o con un portafoglio insoddisfacente da un punto di vista dei rendimenti chiaramente qui si apre un discorso enorme che non possiamo approfondire in questo video mi auguro però che questo modello di ragionamento ti possa essere utile sia in questa sede che in futuro io direi che abbiamo esaurito gli argomenti relativi all'emissione del BTP valore ovviamente ti invito a visitare Affari miei e a visitare soprattutto l'articolo che sarà aggiornato in tempo reale quando ci sarà l'emissione ti invito a farmi sapere nei commenti cosa ne pensi e in generale a seguire i nostri prossimi contenuti a presto, ciao!